Bene, facciamo una foto con tutti quelli che hanno la maglia dell'Oda Tour, così anche quelli della strada sono liberi, grazie. La categoria Liedi, la maglia dell'Oda Tour che va indossata alla prossima gara. La fece Elena Pancari, sia per i biker, la seconda prova per i biker. Sesto classificato, ricordiamo ai biker, Claudio che tu sei un biker. Un altro dei pilastri della nostra squadra, sempre incredibile sia fare in primario le donne che ad aiutare gli allenamenti. Betta Adrio, MDL Racing, vince la categoria F4 Ruta Claudio. Che anche lui quando aveva più capelli correvamo insieme nelle categorie. Se qualcuno ha bisogno dei mobili rimodossi, lo contiene Gianluca, Odelese MTB. I tempi sono sbagliati. Al terzo posto, no al quarto posto. Toche, schifo. Vince la M3 con la mountain bike. Vincolini Sergio, 33 e 0,6 che è anche il primo assoluto. Secondo posto, Taddei Giordano, club 1,20. Vince la M2 a Ricci Simone, 33 e 20. Ciao Roby, grazie, ciao, ci vediamo. Ancini si vuole. Vince la categoria M1, crossista ancora o ex? Mezzo e mezzo del team motocross Lancini, ma del team corte flanco in bicicletta. Parchetti Marco, buonissimo, buonissimo, grazie Graziano. Questa è la M5, giusto ragazzi? Sono le tre donne. Adesso il gruppo più numeroso vince la categoria M6. Il mio compaesano della Stefana Bike Nave, del suo negozio, Stefana Tiziano, sesto assoluto. E anche il gruppo Stefana Bike erano numerosi. E con i nostri nonni della water bike. Manca il gruppo più numeroso. Mang sorti... Mancia il gruppocio... E il gruppocio, affiancini. Grazie a tutti.